Noi non vogliamo farti del male! Ci parlo io! Conosco il dragonese! Non gli è piaciuto quello che gli hai detto, Wildfire? Ma che problema ha? Forse pensa che siamo entrati in casa sua. Anch'io sarei un po' arroviata. Grazie! Andiamo! Se la visione era giusta, il maestro che ci serve è dall'altra parte del portone! Sembra che sia stato sigillato! Dobbiamo trovare cosa gli impedisce di aprirsi! Quel segchio! Questo paesaggio non è adatto alla battaglia! Queste non sono normali pietre. Sembra che siano state messe qui di proposito. Sì, sono state senz'altro messe qui di proposito. E cosa stai facendo, Lloyd? Sono sicuro che se il secchio è appesantito dalle pietre, tirerà la catena e aprirà il portone. È stato messo lì volutamente! Ma come lo riempiamo se il drago non ci fa avvicinare alle pietre? Dobbiamo lavorare insieme! Qualcuno di noi deve distrarre il drago mentre gli altri prendono le pietre! Sora, tocca a te! Canestro! Recordo mondiale! Hai capito, Sora? Io ti capisco sempre, Arin! Sta funzionando! Coprimi! Dovrebbe bastare un'altra pietra per aprirlo e farci passare! Ci penso io, Lloyd! Vediamo, vado da questa parte! Sì! O da questa! Anzi, scelgo una terza via segreta! Oh, andiamo! Ci penso io, Arin! Attivo lavoro! Andiamo!